benvenuti e bentornati sul canale del teamfs oggi vi voglio raccontare un'avventura più che una sessione di pesca aprile si è tenuto il primo evento benefico organizzato da car fishing world e io ero lì per firmare e aiutare stefano dell'organizzazione diciamo che il tempo non sembrava proprio dalla nostra parte però siamo riusciti comunque a finire i preparativi prima della pioggia e ovviamente abbiamo trovato il tempo per cadare due cavi un bel pesce e si scappata così troppo gasato ragazzi la che ti ho cercato posta venti un super pescione in attesa dell'evento che si terrà domani buttato giù due canne insieme a steve mitico steve è partita ragazzi è partita la regina un bel pesce si bella risinotta che bei baffini c'è un bel pesce si bella questa è una locca veramente bella tra l'altro dato un po d'affari perché si stava andando a cercare una linea è proprio bella sto pescando vicino alla legnaia pesce c'è yahoo siamo sul pezzo momento di rilascio ha scappottato per chi so sarà sorteggiato domani postazione venti ragazzi postazione venti vai vai con il rilascio luca ragazzi vorrei dire a causa della bassa profondità del lago c'è un netto dislivello eh si tra le canne e l'acqua però stando sempre attenti con gli ottimi accorgimenti possiamo comunque recuperare il pesce e rilasciarlo in totale sicurezza ciao voglio andare via ottimo let's go grande let's go un altro bel pesciotto un altro bel pesciotto nel cuore della notte un altro bel pesce guardate qua che orologio che bellissimo orologio caduto nella canna del sottoriva in mezzo alle legnaie in due metri e quattro d'acqua con una tiger di carpo school e un chicchetto di mais bel pesciotto bel pesciotto sano in forze bocchie perfette bellissimo pesce bellissimo pesce una pancia enorme mostro andiamo rilascio eccoci ragazzi eccoci ragazzi adesso si smonta tutto e ci prepariamo per l'evento quindi non mi rimane che salutarvi dal mio appuntamento sempre un nuovo video sempre nuovi spot con nuove carpe e nuove ische un saluto eccoci ragazzi eccoci ragazzi eccoci ragazzi eccoci ragazzi eccoci ragazzi